E l'Uvere Gianfraga lo progresso ha portato al regresso, firmato Maria Carmela. Il progresso ha portato al regresso e mi piace. Il progresso è sempre regresso. Il progresso è sempre regresso. Sì? Sì, c'è una doppia faccia. Che tu se il progresso non riesci a mantenere come un puro sangue, devi mantenere le brigli, le redini, devi stare attento, perché il progresso ti può pure far saltare tutti quanti, capisci? Quindi il progresso deve essere centellinato un poco alla volta, deve entrare nella società. Quando arriva il boom economico, il boom fa male, infatti si dice boom. Capite? Prima è il boom, si dice boom e dopo ti chichesotte però. Certo. La deflagrazione ti fa cagher, non è normale. Vabbè, poi...